Ciao fratelli! Allora, la prima puntata finisce qui. Adesso andremo avanti per altre dieci puntate. Non perdetevi accordi e disaccordi, che è un talk show. E a proposito di talk show... Lasciatemi rivolgere un piacere a Maurizio Sostanzo, che oggi ci ha lasciati e uno che il talk show in Italia lo ha inventato. Ciao Maurizio! E un bacio anche a Maria. Noi ci rivediamo venerdì prossimo. Buonanotte! Ciao! Andrea Zalone, Silvano Belfiore. Ciao!